Belluno è la città con la spesa annua e il consumo medio di luce e gas inferiori rispetto alle altre province venete. Infatti, nel primo semestre del 2024 si è speso 168 euro in meno rispetto allo stesso periodo del 2023 per quanto riguarda l'energia elettrica e 200 euro in meno per la fornitura del gas. Secondo i dati dell'osservatorio segugio.it, nel primo semestre del 2024 sono calati i consumi e la spesa annua di luce e gas con le migliori offerte del mercato libero. Per quanto riguarda l'energia elettrica, l'analisi a livello nazionale evidenzia un calo del 5% del consumo medio a fronte di un calo della spesa annua del 21% rispetto all'anno precedente. A livello regionale, il Veneto si attesta rispettivamente a un meno 5% e a un meno 22%. Se si osservano nel dettaglio i dati a livello provinciale, è proprio Belluno la città in cui si registra il calo maggiore con una spesa annua al meno 23% e un consumo del meno 7%. Ciò significa che il costo della corrente è nettamente calato. Per le forniture di gas naturale, il consumo annuo medio risulta in calo dell'8% sulla base delle rilevazioni del primo semestre confrontato con lo stesso periodo del 2023. Inoltre, grazie al calo dei prezzi all'ingrosso, si registra una riduzione della spesa annua del 7%. Il Veneto riporta un calo del 7% in entrambi i settori. Se si guarda nel dettaglio i dati del gas del Veneto, si nota che la provincia di Belluno registra un calo superiore alla media nazionale e regionale per quanto riguarda la spesa annua con un 16% e anche il consumo medio ha un calo importante del 15%.